Manifestazione questa mattina di fronte all'ITIS di Arezzo del fronte del dissenso per contestare quanto sostenuto dal preside Alessandro Artini in un nostro servizio sul rientro a scuola dei professori non vaccinati. Nel servizio Artini è molto critico rispetto alla decisione del governo che consente il rientro al lavoro di chi non ha ottemperato all'obbligo vaccinale. Le parole usate dal preside sarebbero state offensive secondo i manifestanti. Una manifestazione democratica una manifestazione civile pacifica ma ferma il cui scopo era quello di condannare rispedire al mittente le improvvide e infamanti parole che ha usato il preside Artini rese gravi sia dal fatto che è un educatore dei nostri figli ma anche dal fatto che è il rappresentante dei presidi dell'associazione nazionale presidi per la toscana. Noi sottolineiamo che questi cittadini che non si sono piegati per loro scelta all'obbligo vaccinale e al ricatto vaccinale essendo quindi sospesi in virtù di legge rinunciando allo stipendio adesso essendo reintegrati sempre in forza di legge non hanno evidentemente poi messo alcun reato hanno fatto una scelta una scelta che hanno pagato rimanendo senza stipendio una scelta che noi diciamo appoggiamo. Sul caso interviene anche il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti che esprime invece la sua solidarietà al preside Artini. La pace è da sempre patrimonio anche dice di chi non ha mai combattuto il covid non è ancora stato definitivamente sconfitto ma certo è che gli operatori sanitari la comunità scientifica e il buonsenso dei cittadini lo hanno decisamente ficcato. Tra il prima ospedali pieni attività e scuole chiuse e l'oggi una quasi normalità recuperata la differenza l'ha fatta la potente campagna vaccinale. Questo è oggettivo dice ancora Lucia Tanti che oggi anche i Novax tornino ad una vita quasi normale come tutti noi lo trovo scontato del resto la pace è patrimonio anche di chi non ha combattuto però se proprio devono dire qualcosa è grazie a chi ha scelto la scienza.